La demolizione di un veicolo è una procedura effettuata dai cosiddetti centri di autodemolizioni autorizzati, per portarla a termine. Dovete però consegnare l'auto con una serie di documenti. Ecco quali. Rottamazione auto, i documenti indispensabili. Come si porta l'auto dal demolitore? Di solito, sulle proprie ruote e in autonomia, ma ci sono centri che effettuano anche il ritiro del veicolo, a pagamento. Insieme alla vettura dovrete però consegnare anche alcuni documenti al centro di autodemolizione, e cioè, carta di circolazione certificato di proprietà o foglio complementare o CDP di targhe, tutte, documento di identità e codice fiscale del proprietario a questo punto. Alprasvolgerete la pratica di cessazione della circolazione per demolizione e il demolitore vi rilascerà la ricevuta contenente. Il codice d'accesso per la visualizzazione del certificato di demolizione digitale. Ora sapete quali sono i documenti da presentare per la rottamazione auto, ma forse non sapete che potrebbero esservene richiesti altri, in particolari circostanze. Ecco quali. Documenti demolizione auto, casi particolari. Le circostanze in cui possono esservi richiesti altre prove per la rottamazione auto, oltre a quelle dell'elenco qui sopra, sono quelle in cui non siano più disponibili i documenti in originale, oppure le targhe. Se li avete persi, sono andati distrutti, oppure vi sono stati rubati, dovrete ad esempio consegnare anche l'originale della denuncia resa alle autorità. Se invece chi consegna non è il proprietario, servirà anche una delega, mentre se questo fosse mancato servirà anche il certificato di decesso con la delega di ogni erede. Nel caso in cui il veicolo risulti intestato a una società serve invece la dichiarazione del legale rappresentante, o di chi ha potere. Di firma, che attesti la sussistenza dei requisiti. Vediamo infine gli ultimi due casi speciali. Se non risultate intestatari al PRA dovrete consegnare anche un titolo idoneo, come l'accettazione di eredità. Se invece siete intestatari e non proprietari, sarà necessario un atto di vendita, anche se non ancora registrato al PRA, oppure la dichiarazione sostituiva di atto notorio sottoscritta dal proprietario. Leggi anche come rottamare un auto.